Giunta la 75esima edizione, la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, la più grande in Italia dedicata ad un prodotto agricolo, ha scelto per la presentazione ufficiale la storica cornice dell'Abbazia Santa Maria di Casanova. Il programma dettagliato dell'evento, che si aprirà venerdì 30 agosto e si concluderà domenica 8 settembre, è sindora consultabile su fieradelpeperone.it. Protagoniste della Fiera saranno naturalmente le aziende che coltivano i quattro ecotipi e la varietà ibrida del Peperone di Carmagnola su di una superficie di 80 ettari. Ma la Fiera è un richiamo ormai nazionale anche e soprattutto per gli innumerevoli appuntamenti gastronomici, musicali e culturali di un fine estate in cui a Carmagnola è impossibile annoiarsi. Nel programma generale si è da anni affermato il Foro Festival, evento collaterale che ospita importanti nomi del panorama della musica e dello spettacolo anche a livello internazionale. Fra gli eventi pop spicca il processo il Peperone, la cui sentenza di assoluzione è già scritta. Devo dire che la capacità di questo territorio di valorizzare non soltanto il prodotto ma la sua promozione anche in termini di attrattività turistica è notevole. È un territorio che ha dimostrato di saper sostenere le filiere agricole e di promuoverle in termini di sviluppo territoriale appunto anche come attrattività turistica. Città metropolitana è stata protagonista della creazione di questo primo distretto che è quello attualmente più strutturato ma sta promuovendo anche la creazione di distretti su altri territori partecipando in prima persona alla progettualità e alla promozione di queste filiere agricole per sostenere quelli che sono le attività produttive delle nostre zone che sono in gran parte delle zone rurali. La novità è che vogliamo sempre migliorare quella che è la prestazione della parte agricola e della parte commerciale, fieristica, enogastronomica e culturale. Non ci fermiamo a dire venite ad assaggiare il Peperone ma deve essere un momento di condivisione, un momento in cui le persone stanno insieme, quando abbiamo fortemente voluto mantenere la fiera anche durante il periodo del lockdown era proprio perché il messaggio che passa attraverso questi dieci giorni per noi è un valore aggiunto che intendiamo assolutamente rinforzare attraverso tante piazze che possono essere a disposizione e attraverso questo messaggio dell'accessibilità perché ci sembra corretto, necessario, proprio perché vogliamo crescere e porre l'attenzione sulle persone che hanno più difficoltà.